E' il ritratto di Madonna, ho ripreso da un quadro antico di cui non si conosceva l'autore, però è molto diverso perché è personalizzato, sono stata colpita dalle velature del panneggio, del bianco, lo sguardo della Madonna, le labbra così carnose, tenere e i colori cessicuti. E come profano? Come profano invece questo è un paesaggio della campagna di Carnese. Questa è la campagna di Carnese, questo cielo limpido, i colori molto brillanti. Ha molto dei marchi aiomani, quindi sembra un po' la maremma toscana. La maremma toscana, un pochino più giù. Un pochino più giù. Bene, bravissima. Grazie. 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 Grazie.